Ora è ufficiale, Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell'Inter. Toccherà a lui raccogliere l'eredità lasciata da Antonio Conte. Toccherà a lui raccogliere. Toccherà a lui raccogliere. Toccherà a lui raccogliere. Alla di rigore! Goal! Goal! Lazio batte la Juventus e vince la sua quarta Supercoppa italiana. Fischia Mazzoleni, comincia il derby. C'èina laabb, ciao a tutti! Lo mette in mezzo Immobile dentro Milinkovic-Savic, la sponda per il 2-0 di Danilo Cataldi, l'esultanza del 32 per la rete della 3-0. King Saudi University Stadium di Riyadh, benvenuti a Lazio Juventus. Pallone con il secondo palo, attenzione ancora dentro, Luiz Alberto! Luiz Albertone! Tosso, palla per sinistro, tosso a lui, parola dentro! Luli! Senna! Luli! La partita è finita! Abbiamo vinto la Supercoppa Italiana-Real! Un triunfo assoluto! La Roma per dimostrarsi una grandissima del campionato, la Lazio per dimezzare la distanza dalla squadra di Fonseca. E poi Immobile! Ciro Immobile! Una dormita punita da Immobile! Lanzari va giù! Si gioca! Palla per Luiz Alberto! 2-0 Lazio! Pagbro! Subito da Immobile! Luiz Alberto controlla! Guarda la porta a calcio! Ancora! Luiz Alberto! Una magia del mago! Per il 3-0 della Lazio! Il derby è Bianco Celeste! Immobile e due volte Luiz Alberto può far festa! Simone Inzaghi può far festa tutta la sua squadra! 3-0 Tripudio! Bianco Celeste! Grazie a tutti!